Passo, eh? Posso passare? Certo! Passo! Passo, vai Davide! Devo chiamare! C'è Calle Ione, vai! C'è Calle Ione, facciamo proprio! Non chiamo io! Se non chiamo io, non chiamo io! Sanzone! Quale? Quello forte che ha fatto gol alla Juve e all'Inter soprattutto! Quello con la Saldoria e Sassuolo! Con quale mano? Quello che fa? No, Giovanni e Sassuolo! Quello basso, un malzolo! Saldoria e Sassuolo! Scegli! Eh? Saldoria e Sassuolo! Me lo lasci con i testi! Quello che ha fatto gol alla Juve e all'Inter e all'Mila! Non si sa, è Gemelli! Non si sa dove è a Parma! E non gioca a Parma, gioca a Sassuolo o a cosa? O a Saldoria! O a Saldoria! E io come farei a riconoscere lo scusato? C'è il Parma! Chiamare l'altro allora! Chiamare quello da Sassuolo! Chiamare Calle Ione che è più semplice! No, il cacchio! Sanzone del Sassuolo! Passo se no! No, no, non sanzone del Sassuolo! T'ho visto, eh? Pana! Te hai fatto la finia e grattate dentro la barba mia! Sì, sono per i maschietti! Davide, ti vedo un po' in dubbio! No, io guarda che sono infornissimo! Giovinco! Picchio, te meno! Giovinco! Giovinco! Uno, uno, uno! Uno, due, uno, due! Grazie ragazzi! Ma non ci posso credere! Giovinco, uno! Eh Eugenio! Io ce lo metto a me! Calle Ione! Ah, ecco, non ci scordavamo! Uno, due! Calle Ione! C'è un po' in dubbio! C'è un po' in dubbio! C'è un po' in dubbio! Grazie a tutti.